Luca Delia cacciatore dei 300 esordio in questa serie over 35 esordio amaro per la sconfitta però avete giocato fino alla fine vi siete messi lì chiusi per provare a ripartire un paio di volte avete anche spaventato non poco Alba Roma purtroppo oggi eravamo molto rimaneggiati mancavano almeno tre elementi della squadra tra cui anche il portiere quindi abbiamo fatto il massimo per poter reggere tutta la partita poi la stanchezza ci ha sopraffatto alla fine quindi abbiamo mollato un pochettino però questo ci sarà ci farà da lezione per la prossima gara prossima gara contro il farina soccer punterete a vincere assolutamente sì il nostro obiettivo è sempre quello di vincere